Oggi, 30 gennaio 2021, siamo nella diciottesima legislatura e siamo, come da qualche giorno, in un periodo di apertura ufficiale della crisi di governo con la svolta che ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha dato alle ore 19.30, convocando Fico, Presidente della Camera, per dare un mandato per l'ustrativo. Allora, dal punto di vista costituzionale, giuridico, il mandato per l'ustrativo non esiste. È una prassi però consolidata, non vietata, che è stata utilizzata più volte. Perché? Perché il Presidente della Repubblica avrebbe molte più difficoltà a muoversi, a cercare di fare pressioni per risolvere la crisi, a convocare, riconvocare in situazioni anche informali, i gruppi. Il mandato per l'ustrativo prende una sua forma perché Fico ha fatto un orario, un cadenzario dove sente tutte le forze che, secondo lui, possono arrivare a costituire questa maggioranza per poi riferire martedì al Presidente della Repubblica Mattarella. Una crisi che sembra risolvibile. La maggior parte degli analisti scommette su Conte III, però il corridoio rischia di farsi stretto. Uno, Conte governa e riesce a far costituire un nuovo gruppo parlamentare senza Renzi. Questa sarebbe una vittoria netta di Conte, forse anche elemento di rinforzo del governo, però sicuramente questo gruppo che per ora non ha numeri, per avere numeri deve ampliarsi. Per ampliarsi deve avere anche delle risposte politiche in termini programmatici, quindi modificare alcuni punti del programma che sono cari al Movimento 5 Stelle, PD e LEU, perché il nuovo gruppo di Tabaccio e Compari vorrà dire la sua, nell'equilibrio dei ministeri più delicati. Quindi sicuramente un dazio da pagare ci sarebbe, però ci sarebbe anche dal punto di vista Conte la possibilità di liberarsi di Renzi. Dall'altra parte il governo si può fare con l'appoggio di Renzi e questo sarebbe una vittoria di Renzi perché Renzi sembra che voglia far pagare a Conte un dazio molto caro, ovvero rinunciare a ministri che per lui sono stati importanti come Gualtieri, come Bonafede e come Lazzolina e sarebbe un ritorno da protagonista di Matteo Renzi. La possibilità di un qualcosa diverso da Conte per ora non è nelle cose ma potrebbe diventare nelle cose a breve con Draghi eccetera o anche non sembra nelle cose lo scioglimento anticipato dalle camere ma potrebbe diventarlo. La scelta di Fico è una scelta chiara. Fico non dimentichiamolo è quello che all'inizio legislatura dopo la Casellati ha avuto un mandato per l'ustrativo ed era arrivato vicinissimo a far costituire un governo Movimento 5 Stelle Partito Democratico. Fu Matteo Renzi a far saltare l'accordo se si ricorda bene. Quindi il rischio che si riproduca una geometria simile alla geometria già vista esiste. ovviamente Fico è consapevole anche dell'esperienza fatta, è consapevole di quel fallimento. Fico non voleva il governo Movimento 5 Stelle Lega che è stato il primo governo Conte però se non ci fosse stato il governo Movimento 5 Stelle Lega Conte non sarebbe mai entrato nella vita politica. Quindi ora vediamo anche un cambiamento da parte degli alleati perché da una parte il Movimento 5 Stelle mette Conte come punto di equilibrio. Il Partito Democratico che all'inizio del secondo governo Conte non voleva Conte ma voleva un governo con il Movimento 5 Stelle senza Conte ora si è reso conto che Conte è un punto di equilibrio non tanto nel rapporto Partito Democratico con il Movimento 5 Stelle ma proprio per tenere omologati e amalgamati il Movimento 5 Stelle. L'EU ha avuto delle possibilità anche congiunturali ovvero quella legata alla pandemia grazie al governo Conte e quindi loro sono compatti in questa richiesta e il problema è un problema matematico cioè Movimento 5 Stelle, PD e l'EU da soli non possono governare. Quindi cosa chiederà il gruppo eventualmente ampio di Tabaccio e Company? Sicuramente non la testa di Conte ma rivisitazioni programmatiche e ruoli ministeriali importanti sì e Renzi che potrebbe anche chiedere la testa di Conte oppure accontentarsi di alcune teste che renderebbero Conte un Conte dimezzato.